10 stilisti, più di 200 persone tra modelli e corpo di ballo, un evento trasmesso in diretta dall'America con Radio ICN New York, ospiti internazionali ed oltre 4 ore di diretta social. Carlo Sene, se Milena Miconi presentano la ventesima edizione del Gran Gala della Moda 2019. Siamo entrambi due grandi amici, signori con noi Mara Azzarelli e Cesare Deserto! Siamo arrivati, siamo saliti, c'è la pansella! In occasione di questo ventennale abbiamo voluto dare un tocco di internazionalità, quindi l'intera serata sarà trasmessa in diretta su Radio ICN New York che è una radio che da oltre 38 anni porta le notizie che accadono in Italia, oltre i confini, in America e poi avremo anche una diretta social perché ormai, Carlo, questo mondo senza social non possiamo vivere, quindi sulla pagina Facebook di Radio ICN New York, Italia Medhouse e Cesare Deserto potete seguire tutta la trasmissione, ci saranno le interviste e commentate, mi raccomando, che vogliamo sapere se vi piacciono le sfilate. Buona notizia! Grazie! Buonasera a tutti! Ma che bella! Questa piassa è meravigliosa! Quanti auguri! Grazie! Buonasera a tutti! Ci sono i nostri due speakers! Eccoci! Pronti in postazione! Alla grande! Eccoci! Ma come siete belli! Bellissimi! Grazie, grazie Carlo, anche tu sei molto affascinante, molto raggiante! Ma dove sta andando? A New York cosa succede? Allora guarda, la diretta Facebook sta andando benissimo, tantissime persone stanno commentando, a New York è una bellissima giornata perché essendo come fuso orario sei ore dietro, c'è un bel sole! E poi i commenti arrivano? Guarda, in questo momento sono curiosi perché giustamente noi non è che ovviamente possiamo anticipare tutto attraverso i social, quindi diamo degli spunti, facciamo vedere qualcosa, poi il resto descriviamo. Sono estremamente curiosi, soprattutto vogliono vedere gli abiti, chiedono delle anticipazioni sui tessuti, i colori e quant'altro. Poi devo dire che il mio compagno di viaggio è un fenomeno, quindi in realtà abbiamo passato almeno un quarto d'ora a vivere. Grazie a tutti! dicevo che chi si presenta qui alle transenne dicendo di voler andare in diretta con cesare e mara verrà fatto passare ovviamente non avrete da noi in cambio né acqua né cibo c'è niente non vi aspettate niente arrivo a me fa molto piacere venire qua perché ci sono delle persone molto carine prima mentre aspettavo cose sono andata a fare un giretto lì dove ci sono le come si chiama dove vendono da mangiare le cose mi sono fatta un pochetto di fettuccine con le salsicce e i cosi come si chiamano lasciano venire fame fettuccine perché io e te cesare ma il problema principale per quanto mi riguarda non abbiamo nemmeno cenato no non abbiamo ma neanche bevuto c'è la cena vabbè la cena ma a bere una bottiglia d'acqua ricordiamo venerdì prossimo che siamo in diretta alle ore 21 su canale 10 seguiteci ultima puntata della stagione di state comodi quindi vi raccomando seguiteci in diretta siamo un saluto al tuo amico c'è la rete si chiama ma sai ma mi sembra che tu ami un po' tutti ma io c'ho abbastanza persone nel cuore guarda milena che è una donna straordinaria amica di tutti una donna di una grande umiltà oddio ma ci sono le ballerine di tango è tutto molto bello è tutto molto bello è tutto molto bello ma ho visto le ballerine di divertire si si ballavo tantissimi commenti le persone sono molto entusiaste sia delle sfilate ma anche quando si sono esibiti i due tangheri tangheri abbiamo dei messaggi in dalla Cerveteri davvero bella la sfilata e tu Carlo come sempre sei elegante e raggiante e poi continua ma ti sei ingrazzato o è l'effetto delle luci e della tv? come si chiama questa signora? Rita da Cerveteri Rita da Cerveteri domani veniamo io e Milena e ti faccio vedere la taglia dei miei pantaloni e ti ricorderai ma io mi sento dove ne ne prendiamo no vabbè ma comparsa è tutto molto bello è tutto bello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera a tutti io sono solo la sua accompagnatrice stasera perché lui è talmente bravo non ha bisogno di nessuno ciao Niki Niki Ciusino facciamo un applauso puoi fare un saluto al pubblico americano yes good night no, no, sono sei ore dietro quindi è pomeriggio happy new year happy new year è capodanno good morning good morning perfetto good morning good morning good morning vabbè ho svarbolato al piacere di avere in diretta telefonica da New York uno dei volti più conosciuti italiani in America lui da oltre 15 anni presenta un programma il Ciao Tony Show che pubblicizza tutti gli eventi che accadono in Italia speaker radiofonico e producer di Radio ASN New York in collegamento Anthony Pasquale ciao ciao Carlo e grazie soprattutto grazie per l'invito e grazie per questa riconoscenza a questo importantissimo appuntamento essendo parte anche se solo via telefonica naturalmente è un grande onore grazie per l'invito Grazie a tutti. Chiudono presto. Lo so perché non è Napoli. Tu sei abituato. Il buon Carlo Senes che ha detto che... No, ancora t'ha finito. È masochista. Ti affida. Voglio dare un messaggio pubblico a Carlo Senes. No. Alle 2-3 di notte, no? Andrai su Facebook e vedrai che non siamo più amici. E non mi potrai scrivere. Io ti blocco, Carlo. Non potrai scrivermi più messaggi. Non ti preoccupare. E sono io che mi sono cancellato da Facebook. Non è che ti ho eliminato o bloccato. Allora, lancio un'altra sfida. Scrivete, rispondete. Ci dobbiamo bloccare Carlo Senes dai nostri contatti social. Sì? Ma una volta? Oppure no? Sì. Buongiorno con noi, il nostro... Eccoci, eccoci qua. Come sta andato questa serata? Molto bene, siamo un po' in ritardo, però si sa. La diretta è sempre questa. Ho fatto anche un sondaggio? Sì. Bloccare, eliminare da Facebook Carlo Senes, oppure no, dato che non ci sta apprezzando... Siamo aspettando le risposte. Siamo aspettando bene di lui e lui parla male di me. No, questo è il web. Questo è il web. Questo è il web, Carlo. Questo è il web. Quanto quante persone ci sono? Sì, sì. La più bella. La bellissima. La bella della serata, vieni, Milena. Vengola qui, Milena. Sei apprezzatissima dal pubblico, sia femminile che maschile, ma complimenti per l'abito, per la professionalità, per la serietà con cui fai sempre il tuo lavoro. Brava. Grazie, vi voglio bene, vi voglio bene a tutti e sono felicissima. Mi piace stare qua perché la moda è bella, è bello seguire la moda, è bello vedere l'arte in tutte le sue sfaccettature. Voglio ringraziare sinceramente Carlo perché nella realtà di Ostia porta un evento internazionale e non è da poco. Lui sono 20 anni che porta avanti questa manifestazione, quindi veramente tanti complimenti. Voglio ringraziare Milena Miconi perché è straordinaria, una partizia di vista a tutto dondo, bella e brava. Grazie, grazie Milena, grazie tanto. Grazie, ciao a tutti. Grazie, grazie.